Tino, seguiremo questa settimana per la prima volta il campionato Berretti e Arezzo-Ravenna. L'Arezzo che viene questa partita, arriva questa partita con 5 punti, frutto di una vittoria casalinga contro il Teramo. Poi due pareggi, due sconfitte, Arezzo quindi con 5 punti, uno in meno del Ravenna, che come l'Arezzo ha vinto una sola partita, un pareggio in più però per la formazione allenata da Marcello Ottaviani, Arezzo allenato invece da Andrea Bernini. C'è la Sussi che fa partire una grande giocata e poi lancio per Caselli, tutto solo, Caselli tutto solo! La respinta di Cavalieri e poi Billi, Baldi rischia su Caselli, ruba palla, in area di rigore, va col destro! E la battuta che finisce su Cavalieri, ancora Caselli, seconda opportunità per l'Arezzo. Poi dribbling secco qui di Balai su Crocini, ancora Balai, dall'altra parte tutto solo David, attenzione, David va a puntare nella rigore, David ne salta due, David conclusione, Ubirti, grandissima risposta! L'Arezzo che proprio insiste che con il Crocini, Sussi, buon aggancio! Poi in area di rigore lo scambio con Chioccioli, conclusione a scendere di Sussi! Che gol! L'Arezzo va in vantaggio con un gol straordinario di Sussi! Una parabola imprendibile per il portiere Cavalieri all'improvviso! Sussi porta avanti l'Arezzo, un grandissimo gol al trentaduesimo! Di nuovo Chioccioli, è andato a vuoto Dantini, poi non trovato Caselli che poi con un guizzo che copre conclude! Pallone sul fondo, ancora con la deviazione del portiere Cavalieri. Caselli, Caselli, Billi lo salta, Caselli, grandissima giocata, ragazzi, Caselli, Caselli! E poi a porta vuoto il gol di Chioccioli! Il raddoppio dell'Arezzo! Chioccioli, ma straripante ancora l'azione di Caselli! Straripante l'azione di Caselli, nessuno è riuscito a contenerlo! Tantomeno Billi, Chioccioli che a porta vuota porta l'Arezzo al 2-0! Poi Tovaglieri si gira bene, grande slalom a Tovaglieri, nega di rigore, finisce a terra e calcio di rigore! Salines su Tovaglieri, giallo per Salines, calcio di rigore per il Ravenna, la prima fiammata della ripresa di Tovaglieri, capocadoniere della squadra, parte Tovaglieri, il destro è precisissimo! Niente da fare per rubirti e dunque il Ravenna di mezzo allo svantaggio torna in partita, Arezzo avanti, adesso però 2-1 al quarto d'ora! E' lo stesso Tovaglieri che riporta il pallone in mezzo al campo, ma Centonze, palla che gira, arriva nel mucchio, attenzione alla conclusione di Gardini, che battuta! Tovaglieri, fuori per Centonze, parte un altro cross morbido, Ravanelli allungato, poi il tira al volo, Ubirti, David, David in mezzo, Centonze la piazza col destro! E la palla va sul fondo, di pochissimo fuori, David prova a inserirsi, David, Ravanelli in due tempi, Salines, David, prova a rubare palla con gioco di prestigio, vince l'impallo, David col destro! Ubirti, ma come ha fatto a prenderla? Centonze, palla deviata, che finisce in rete, il 2-2 del Ravenna, ha cerchiato l'autore del gol che è Tovaglieri, ancora Tovaglieri, ha trovato in mischia la deviazione vincente, che dà il 2-2 a Ravenna, l'Arizia che ha in vantaggio 2-0. Va a chioccioli, palla di Cuero! Colpo di testa precisissimo, di Cuero che riporta in vantaggio l'Arezzo, riporta in vantaggio l'Arezzo, che stacco di Cuero! Dentro l'area di rigore, davvero un gol forse inaspettato dopo che l'Arezzo aveva subito la rimonta, al 39esimo sul corner da destra di Chioccioli, Cuero trova l'angolino, 3-2 per l'Arezzo! Allora, mister Bennini, una bella vittoria, un buon primo tempo, c'è stato un attimo di passaggio a vuoto a metà della ripresa, però siete riusciti lo stesso a riportare a casa il risultato? Sì, un risultato sicuramente importante, fatto una disamina giusta perché penso al primo tempo potevamo andare sul parziale sicuramente più rotondo, perché il loro portiere, un po' per imprecisione nostra, un po' per bravura il loro portiere, ha fatto veramente due o tre interventi importanti. Il secondo tempo non siamo rientrati benissimo in campo, abbiamo rischiato di compromettere una prestazione sicuramente discreta, i ragazzi stanno migliorando, poi c'è stato questo orgoglio alla fine, con questo gol per fortuna, insomma, si è riusciti a portare a casa un risultato importante per noi. Da questo punto di vista la squadra si vede che sta crescendo e soprattutto ha dimostrato una grande reazione proprio nel momento in cui aveva subito il pareggio, perché quello era un momento in cui le gambe potevano venire tagliate dal gol del 2-2. Sì, questo sicuramente, sicuramente dovrò lavorare, che bisogna gestire meglio le partite quando siamo in vantaggio, sicuramente qualcuno avrebbe pensato che avremmo già vinto e quindi abbiamo mollato, non siamo stati aggressivi, lo accorcevamo più avanti come al primo tempo, una squadra che loro, una squadra di tutto rispetto, perché domenica insomma sono andato a fare un risultato in portanza a Modena, hanno riuscito a pareggiare, una squadra che gioca bene a calcio e davanti a un riparto molto forte, quindi lasciandoli giocare, allungandosi, sicuramente siamo andati in difficoltà. Per fortuna poi alla fine si è riusciti a rifare il gol del 3-2, una vittoria sicuramente importante e poi insomma ci sono state anche dopo il 3-2, in altre due o tre occasioni buone per noi, però godiamoci, adesso c'è la sosta, godiamoci questo periodo, lavoriamo perché c'è da lavorare tantissimo ancora, però diciamo che sono soddisfatto dei ragazzi.